Devo ammetterlo, scusate, è difficile per me e lo capisco, è estremamente difficile, sì, ma sono d'accordo con Andrea. No, 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 è la prima volta, ero convinto che in maniera piuttosto così anche paracula tu dicessi Taylor Swift, invece no. Pezzi, 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 pezzi. Lauretta, lauretta, perché gli piaceva pezzi, pezzi, pezzi di lauretta, 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 Laura Pausini ha compiuto 50 anni, cari amici, ma noi per lei, amici amici, amici al, no, lo dico lauretta perché alla festona di compleanno, uno, due, tre, gli inviti. Tu hai visto l'invito? No, io non l'ho visto, tu l'hai visto. No, è un lancio, è un lancio però questo, è un lancio che io qua cogli al volo la parola amici. Finale di amici, ha vinto Sara, ha vinto Sara, però bene anche Olden, Mida e Petit. Petit, senza la finale francese. Allora Petit. Lui c'è la Geolier. Perché Petit e Napoli dicono Petit, anche Geolier dicono Geolier. La 160 volte ci sono anche i ballerini che sono Dustin. O Denim. O Denim. E Marisol che l'ha chiamata Sara. No, no, l'ho chiamata Sara perché sul grande schermo, quando Maria mi ha chiesto una cosa, era venuto fuori il grande volto di Sara, quindi ho letto Sara e ho detto Sara. Però facilmente, Barisò, ti ricordi Barisò di Verdone, era facile anche ricordarsi. Io non mi aspettavo vincesse Sara, però alla fine della puntata sono convinto che se lo meritasse, perlomeno per quello che abbiamo ascoltato in puntata. Ma ti ha convinto di più? Sì. La voce di Sara, che tra l'altro è stata l'unica cantante pura, perché poi quest'anno è stato l'anno delle polemiche sull'autotune. O la camicia di Mida, che invece era piuttosto… No, oppure la sua scaletta eclettica, cioè passata fra i generi, facendo… Visto che lei gioca a tennis, ha fatto un game tutto sul dritto, uno tutto sul rovescio. Diciamo che la scaletta eclettica è un presupposto per farmi apprezzare, per avermi fatto apprezzare tutto quello che ha fatto nel corso della serata. Ha cantato senza autotune, ha cantato in tanti modi diversi. Secondo me, nell'epoca del precotto, del preconfezionato, lei è un prodotto musicale che potrebbe crescere. Ancora mi permetto di dire ancora da costruire. Per forza, questo è bello, accidenti. Il pop è crescita, il pop è qualcosa che si deve costruire passo per passo. E secondo me, nel caso di Sara, l'ho anche detto, c'è ancora molto da costruire, ma con questo vado a suo beneficio. Nel senso che è già molto avanti per avere solo 18 anni, ma c'è ancora molto da fare. Però secondo me questa vittoria di Sara è anche un ritorno al ruolo del talent, cioè scoprire qualcuno che non è un prodotto già fatto, che arriva già… Se no diventa solo un lancio. Anche se lei era già passata da Sanremo, aveva già anche un piccolissimo contratto universal, però era la più smarrita, la più costruibile, diciamo. E invece il giovane Holden, che a me piaceva tanto, è piaciuto tanto, tra l'altro è andato a un pelo, a un voto dal premio della critica, purtroppo non ce l'ha fatta, ma si è portato a casa il premio delle radio, che mi sembra importante, perché le radio hanno capito che lì dietro c'è qualcosa e anche davanti. Perché Holden, io l'ho detto, nel suo essere semplice, avete visto il look di ragazzo normalissimo, non solo della porta accanto, ma quello che ti trovi veramente in strada mentre passeggi senza troppi, come si può dire, ponteggi. Artifici. Ecco, direi artifici, ponteggi. Giubbettino. A proposito di premi, però pensiamoci bene, non ne parliamo mai, ma chi vince davvero, amici, sono i ballerini. Cioè i ballerini hanno, quando portano a casa dei premi, non sono un contratto per X tempo, ma ad esempio Dustin e Marisol vanno nelle scuole migliori del mondo. No, no, a fare anche dei musicali, vanno nella scuola migliori del mondo a New York, cioè da lì esci veramente, diventi padrone del mondo. E infatti molti di loro le abbiamo visti nel corpo di ballo dell'altra sera. È stato bellissimo quel momento, anche perché noi eravamo, la postazione della stampa, insomma, era proprio sulla pista, le ballerine passavano e scotendo i capelli magari sfliravano anche la faccia a lui. Allora, vogliamo andare su Billy Eilish, possiamo? Ma c'è. Hit Me Hard and Soft, vi ha colpito più duro o più dolcemente? A me è hard, a me è hard. Beh, lui è sempre hard. No, hard, lo dico perché, diciamolo anche qua a beneficio di chi non sa assolutamente cosa sia successo, è uscito un album di Billy Eilish, Hit Me Hard and Soft, forte e piano, forte e soffice, forte e smooth proprio, direi proprio di una carezza, dove parla di se stessa in maniera biografica, dove fai in qualche modo coming out e dove lancia, ne parlavamo prima di preparare la puntata, anche lei come Taylor Swift e Beyoncé, Andrea, spiegala meglio questa cosa, una linea che non sembra essere seguita per adesso nel nostro paese. Non è seguita da noi perché i tre album più importanti di quest'anno in America sono stati fatti da tre donne, cioè Beyoncé, Taylor Swift e Billy Eilish. Ecco. Allora, sono tre album rilevanti, ma sono tre album, hanno proprio l'idea dell'album, non il vecchio concept che gira attorno a una storia o così degli anni 70. Sono tre dischi in cui loro si raccontano o raccontano qualcosa, o hanno comunque un cuore pensante e pulsante. Artisti rilevanti in Italia che facciano questa cosa, mi sembra che si perdano un po', mi sembra che ci sia più concentrazione sul fare il singolo per Sanremo o il singolo per l'estate e poi basta. Ma dicevamo prima, anzi Paolo diceva prima questa cosa interessante che dicevi, che sono tutti album di fit in Italia. Sì, cioè in Italia praticamente alla fine si vede che non sono album, nel disco di Taylor Swift c'è un'idea, nel disco di Billie Eilish c'è un'idea, c'è il racconto della generazione Zeta, Kupa, ma profonda. Nei dischi italiani, io non li vedo queste cose, mi sembra, la mia sensazione è che tutto questo ammasso di fit, non solo la renda la musica italiana talmente omogenea da essere indistinguibile, ma poi ci porta soltanto ai numeri. Ok, io faccio due milioni di clip, basta. E sottolineiamo una cosa che c'eravamo detto prima, cari artisti, bravi, bravissimi, strematissimi, fare degli album pieni di fit in realtà significa che non sono degli album vostri, con delle canzoni solo vostre, ma sono un sacco di canzoni con un sacco di ospiti. Allora chi è bravo lì in mezzo? Gue Pecchegno, Sfera, Elodie, Rose Villain e poi ancora, cioè chi è di quel gruppo, di tanti singoli che ci sono adesso? In questo momento sento la voce in radio, magari sento la voce di qualcuno, non so se è il fit che ha fatto con quello o con quell'altro. Ma non so di chi è il singolo. Non capisco più niente. Non mi prendete in giro che non capisco mai niente. No, no, è vero, hai ragione. È proprio una sensazione diffusa. E i tre dischi dei tre personaggi più rilevanti, quindi Taylor Swift, Beyoncé e Billie Eilish, i fit sono veramente pochissimi. Esatto, bravo. Beyoncé ne ha due, Billie Eilish non ne hai, Taylor Swift ne ha due. Il risultato è i prossimi Grammy, loro faranno incetta di nomination e invece la prossima stagione della musica italiana non si ricorderà di quella precedente. Ma chi delle tre preferite? Io, Beyoncé, ma questo non è… Tu, Beyoncé, dai… Perché argomenta, argomenta. La preferisco Beyoncé perché ha dato, e lo dico uscendo da questa polemicuzza che avevamo acceso due volte fa o la volta scorsa, sul fatto che un pochettino ci ha preso in giro raccontandoci di un disco country, che country non è, perché di canzone country ne ha due e il resto è puro R&B o comunque lì intorno, ha avuto il coraggio di farlo, ha dimostrato il suo valore, le canzoni all'interno sono molto molto buone ed c'è poco da fare, è ancora un pelo sotto a Taylor per una questione generale, ma è davvero incontrastata a una delle regine della musica attuale, parlo mondo, e ancora una volta riesce a smarcarsi, e questo secondo me è una grande bravura sua, a smarcarsi dal marito. Ragazzi, la presenza di Jay-Z è importantissima e fondamentale per il mondo dell'R&B, del rap, dello urban, in questo momento, ma non solo in questo, da dieci anni, da vent'anni in questa parte, lei si è smarcata da quella roba lì. E guarda che è suo marito, non è facile. Questo sì. Io voterei invece Billie Eilish, perché, devo dire, mi è piaciuto il fatto che rischiava, secondo me, so che dico una bestialità, ma rischiava un po' una fine nel dimenticatoio marginale, non dico come Lorde, però dopo un esordio pazzesco, il secondo disco era andato in calo. È vero, lo diciamo sempre, copiando Caparezza, il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista, ma lei con questo terzo ha tirato fuori una botta incredibile. non vorrei arrivare ai livelli dei giornali inglesi che l'hanno paragonato addirittura a Blue di Johnny Mitchell, però è un gran disco. Secondo me lì ci vuole un po' di tempo per dire che può essere o può non essere del valore di Blue di Johnny Mitchell, perché poi adesso c'è questa tendenza che tutto quello che è nuovo deve essere super figo. io per esempio contesto la top 100 che ha fatto Apple, gli album più importanti della storia, se andate a vedere quella di Apple, sono tutti album ormai degli ultimi 20 anni. È stata fatta come classifica o è stata fatta perché bisogna stremmare e allora si stremmano le cose più recenti? No, l'ha fatta Sailor, che pur avendo oltre 50 anni ha voluto fare il giovanissimo. Io credo che siamo nella fase come al solito nella fase di mezzo nella quale prima vanno i vecchi, poi i vecchi vengono cancellati, i vecchi si dice in senso musicale, vengono cancellati, come sta succedendo adesso, come hai detto tu, e dopo ci sarà la solita riequilibrio e verrà fuori di nuovo tutto. Ma sembra che ci parliamo, ci passiamo un po' gioco, ci leghiamo gli argomenti. Per quanto riguarda invece gli argomenti devo ammetterlo, scusate, è difficile per me e lo capisco, è estremamente difficile, ma sono d'accordo con Andrea. No, no, è la prima volta. Io sono dalla parte... Io ero convinto che in maniera piuttosto così anche paracula tu dicessi Taylor Swift, invece no. No, no, perché Billie Eilish mi ha stupito perché ha fatto un disco che è un disco, non è soltanto una raccolta di canzoni furbe, va in radio, è uscito con un singolo che non è un singolo accattivante, non è qualcosa che ti prenda. E quindi questo è una scelta coraggiosa perché la generazione Z, di cui spesso sentiamo dire le peggio cose, in realtà è questa cosa qua. Cioè ha voglia, lei la descrive molto bene, è cupa, perché il disco è abbastanza cupo, ma è profondo. Però non ci dimentichiamo anche della presenza di un personaggio che è fondamentalmente fratello, che è il fratello. Finis, però che comunque è anche lui generale. È lei mio fratello. Che disco che hanno messo a sé? Hanno messo un disco benissimo. Da una parte dei suoni, come dire, tra virgolette vecchi. Cioè c'è spesso una chitarra acustica che guida tutto. L'inizio del disco è una chitarra acustica. E tu sei tirato dentro da questa cosa, inizialmente. Però poi, se ascolti con attenzione, sotto, in un secondo livello, forse anche in un terzo o in un quarto, ci sono tutti dei lavoretti. Non è andato dritto sui suoni moderni. È un ritorno alla file dischi che hanno tanti livelli di lettura, che hanno dei suoni, che hanno qualcosa di riconoscibile. Se ci pensate, è un passo avanti incredibile. E qui mi tirerò io addosso un po' di strali, in Italia ancora... Zero. Scusa? Non ne vedo. Non ne vedo. Io ritorno su queste tre donne. Perché? Perché sono tre donne che scrivono i loro pezzi. E questa è la loro forza. Sono distinguibili. Billie Eilish in una canzone in cui parla lunch, in cui paragona la sua voglia di una sessualità con una donna a un pranzo, è completamente diversa da Taylor Swift che parla ancora dei crash, dei vecchi amori, cuoricini, teenager. Secondo me Billie Eilish ha visto il film quello famoso nel quale c'è l'attore che magna il cervello. Ti ricordi il film? Billie Eilish Il cannibale. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Il silenzio degli innocenti. Billie Eilish che dice ho immaginato la mia faccia, in una vagina. Allora, insomma, ad amici in finale due donne. In America dominano tre donne che sono le cose. Ma gli uomini finiti? No, non sono finiti. Anzi, vi parlo di due anziani, ma molto anziani. Allora, uno molto anziano, l'altro un po' meno, che però ragazzi non la mandano a dire. E vi apro l'argomento. Anziani. Gli anziani diventano buoni oppure un click furbo per fare quelli che comunque poi portano sempre acqua al loro mulino. Vi faccio i nomi e i nomi sono quelli di Sir Paul McCartney che dopo 60 anni riconosciuto, questo forse non lo sanno in molti, le no mustard e simpatia come si dice a Milano. Cioè, Paul McCartney, bravo, leader dei Beatles, ma la simpatia sta da un'altra parte. Una volta me l'ha fatta brutta e te l'ha fatta brutta. Ecco, della serie Ciao come sto, no? Ecco, però... No, no, mi ha detto su una domanda che gli ho fatto e dietro mi hanno fatto un gesto così proprio i suoi assistenti e io dico guarda, ti avrei chiesto ancora ma dietro fanno brutti gesti e lui mi fa no, no, ma decido io. Parto, gli faccio la domanda e lui mi risponde no, no, ma tanto il tempo è finito. C'è la ragione loro. Pensa che roba. Non sei un mostro di simpatia. Non è un mostro di simpatia. Però con lui avevo mangiato una sogliera di Dover veramente buonissima e quindi lo rispondo per sì. Cioè lui perché ha mangiato una sogliera di Dover con Paul McCartney e per me è simpatico, sì. Ma sarà simpatica la sogliera, no? Paul McCartney. Comunque, Paul McCartney, non un mostro di simpatia, cosa fa? Il primo show dei Beatles in America, la CBS, la televisione CBS, mi parevo IBC o CBS, intervista una fan. Allora, cosa poteva avere? 15 anni, 16 anni e chiede ma cosa c'hanno sti Beatles che tu diventi matta così? è perché io sono innamorato di Paul McCartney e lo sarò per tutta la vita. Paul McCartney proprio l'altro giorno cosa ha fatto? È riuscito ad andare a riprendere, hanno ribeccato questa fan che ora ha 76 o 75 anni e le ha dedicato una canzone. Pensa che roba. Veramente strappata. L'altro furbacchione è Bono degli U2 che siccome era girata la parola, no? Qual è la migliore band rock e c'erano i colplay che giravano, intervista recente dove dice forse non avete capito la canzone per me preferita nella vita è Clock dei colplay quando l'ho sentita mi vibravano le mani però non parliamo di colplay come di una band rock cioè loro fanno un altro campionato come a dire fate i bravi fate i bravi che i rockettoni siamo noi ha ragione con gli ultimi album proprio i primi tre però i primi tre hanno fatto rock poi da Milo sei l'ho e però Paraccio Tragiazza era un cacchio di disco Arash Oblot to the Head era un cavolo di disco ed era assolutamente rock comunque Furby questi due signori però allora diventano cattivi o diventano buoni è un cattivo buono è un giocato sul capito è il carabiniere cattivo è il carabiniere buono ti dicono una cosa danno la carezza poi lo scaffo però pensate una cosa in Italia ci sarebbe mai la possibilità a parte i rapper che gli artisti si giudicassero tra loro pubblicamente a parte i rapper anche a parte i rapper nel senso che in Italia non viviamo un artista che abbia coraggio di dire qualcosa siamo di fronte a un caso di un rapper iraniano che rischia una condanna a morte e nessuno tranne forse Tananai in un concerto in un concerto l'hanno anche annunciato in una esibizione adesso non mi ricordo io l'ho scritto ma il fatto che nessuno abbia invocato pubblicamente ma di tutti i tipi di organizzazioni musicali dal ministro in avanti in giù nessuno abbia detto preso posizione su questo rapper che rischia la morte è incredibile tra l'altro in Italia siamo in un momento in cui il governo parla di censura dei rapper nel caso di censura che porta addirittura la condanna a morte era anche diciamo un tema su cui entrare da questo punto di vista c'è stato un intervento un po' un po' lento cioè non c'è stato non c'è stato non c'è stato torniamo allora abbiamo parlato di operazione simpatia abbiamo parlato di censura ma secondo voi è un'operazione simpatia quella di Fiorello con Orietta Berti una vespa in due perché è il primo accenno di tormentone uscito insomma quest'anno io voglio bene Fiorello voglio bene anche Orietta ma a me la canzone proprio boh mi pare una paraculata di quelle siamo tornati alla ricerca diciamo prima o la canzone per Sanremo o quella dell'estate un po' sta stancando cerchiamo di fare anche altro cioè non si vive due mesi all'anno questo è vero è anche vero che qui Fiorello è un conduttore televisivo ormai non fa più musica da un sacco è radiofonico il conduttore televisivo radiofonico insomma Orietta Berti si presta a qualsiasi operazione ormai quindi da questo punto di vista tanto di cappello perché 80 anni insomma non è proprio la cosa che capita a tutti però come dice Andrea oggi purtroppo sono sempre più in sintonia con te non ci sono ma non mi piace infatti ma guarisco guarisco io vi guardo aspetta vi guardo guarisco no la cosa la cosa divertente secondo me è che che hai detto tu ed è giusta è che non viviamo musicalmente soltanto per Sanremo e per l'estate e quindi va bene adesso comincia si aprono le stalle del tormentone però non pensiamo solo questo sai che oggi riesco a leggere quello che scrive sul foglio non fa più quello che nasconde gli appunti come l'altra sera ad amici ad amici allora Andrea si è presentato si legge eravamo seduti ha scritto amici Billy Eilish all'un nuovo nello studio eravamo seduti così eravamo seduti così in questa disposizione e al certo punto nell'attesa della diretta insomma tutti si parla ci si confronta e Andrea si è messo da parte e ha cominciato a scrivere a vergare degli appunti diciamola tutta Paolo dei temi dal giovane Holden perché voleva fare la bella figura siccome c'era Holden dice quando c'è Holden gli sparo la bella figura faccio la frase l'abbiamo capito dopo perché lui come all'elementare non voleva dire che cosa stava quindi io gli ho fatto Andrea scusa ma cosa stai scrivendo sono cose mie sono punti stavo riflettendo e poi cosa ha fatto lui io l'ho preso cosa ho fatto sul foglio e scriveva tipo in calligrafia che neanche con le lenti di ingrandimento e tu così cosa stai scrivendo questo per dire che insomma e cosa ha fatto tu poi non mi ricordo lui ha preso un foglio ha preso una penna e ha scritto delle cose tipo Paolo è bellissimo cioè delle cose che non c'entravano niente con una calligrafia ancora più piccola e poi così e poi soprattutto così e ho fatto in modo il secchione cattivo del liceo e ho fatto in modo che loro due perversi e assolutamente così guardassero sempre più visibilmente per capire come stavo scrivendo e dopo che ci siamo molto divertiti va beh parte comunque l'estate dei concerti e si dissi all'arena Campovolo è il primo concerto dell'estate e poi un botto dei festival quest'anno bisognerebbe girare come dicevi tu l'altra volta bisognerebbe girare con la tenda al sacco a pelo per poterli vedere tutti il mio primo concerto grande concerto è stato quello con gli CD e non vai sto giro probabilmente no ciao Angus Angus poverino guarda che c'è l'apparecchio acustico devi urlare un pollo non è vero Angus è ancora più giovane quanti anni è Angus? Angus siamo 55 quindi siamo 69 Brian Johnson come Diego Batantuono 69 allora no no lo dico è still rocking it's a long way to the top it's a long way to the top no è vero l'unica cosa che mi colpisce un pochettino è come certi artisti siano in certi festival dove non c'entrano assolutamente nulla ad esempio? io faccio i nomi ragazzi oggi sono giuro scooter faccio per venire qui in studio cartellone molto grosso in una piazza molto famosa di Milano nameless festival e tutto un sacco tra l'altro giustamente mi diceva Andrea che era un festival che ultimamente era diventato molto urban e che quest'anno invece è tornato ad essere come agli inizi molto elettronico Benny Benassi un sacco di disgioche roba elettronica proprio uns uns tam tam boom boom qua cassa in quattro e leggo Angelina Mango Annalisa e cosa c'entrano? la musica non ha più barriere la musica non ha più barriere a me sta roba qua non piace che la musica non abbia barriere io continuo a dirlo voglio ritornare negozi di dischi con gli scaffali per genere con le magliette di appartenenza io voglio la maglietta dei ramos mi sono chiesto come mai hanno accettato appunto di far parte del nameless dei nomi così dove appunto visti da me che in quel caso ero un mero ciclomotorista ma appassionato di musica ciclomotorista non lo sento dagli anni 50 ma io essendo un boomer mi vengono queste cose e guardo e la mia reazione è ma che cavolo c'entra come me secondo me l'ho avuta in tanti l'hanno in tanti secondo me è la stessa mentalità del fit cioè mettere insieme spesso mondi completamente diversi per con l'illusione di creare un incontro tra il pubblico io non so nel fit magari succede dal vivo boh ho questa sensazione che il fan di Angelina magari magari invece di Annalisa c'è Annalisa che è quella della gialappa se non me ne ero accorto no 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 però sicuramente prendalo di Gianni noi vogliamo bene sia Angelina che Annalisa per l'amor di Dio però il discorso è proprio che tu vedi dei mondi che sembrerebbero o magari potrebbe essere una cosa che non lo sappiamo Angelina e Annalisa vanno e fanno le loro versioni dance dei pezzi sarebbe figa come idea sarebbe forte sarebbe una bella esclusiva una bella esclusiva sinceramente in versione ti rendi conto è un'idea direttore artistico del prossimo festival nameless basta che sentite ragazzi come siamo arrivati verso il finale si non hai più niente negli appunti guarda pagina bianca pagina bianca cosa facciamo facciamo già mente locale sui temi della prossima puntata sito no allora non c'è niente che abbiamo delle cose solo per pezzi che si stanno si stanno proprio maturano no è come la torta sta venendo su no per cui fra poco io ti vedo un po' come un souffle come una torta comunque va bene si sgonfia però se non sei bravo sei simpatico come la sabbia nel letto comunque ti saluto ciao mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella pezzi 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 pezzi